la sveglia e via che si parte sereni verso la cisa e poi un po di questo un po più moderno ma che bravi che sono partiamo, partiamo questa è tutta un'illusione questa zona piatta ma quelle là in fondo sono le montagne da scavalcare ho già l'ansia da prestazione sul passo della cisa ma ce la faremo ce la faremo ragazzi ce la faremo dai cavolo ci siamo ragazzi ci siamo fornovo passato adesso una serie di sali e scendi giusto per scaldare un po le gambe e poi si affronta la cisa ragazzi ci siamo ragazzi miei mi sa che è proprio giunta l'ora della superbomba dell'erborista pellegrino di Fidenza buono sa di miele ragazzi è abbastanza tosta ora sono sceso per rifiattare un attimino questo pezzo qui è al 12 per cento quindi meglio rifiattare un po far circolare un po di sangue al culo le chiappe al sottosella non sarà dignitoso ma preferisco spingere che spaccarmi ciao ragazzi tanto pedalando stavo andando alla stessa velocità che sto andando adesso andando a piedi sono veramente una pippa ah ma arriverò in cima oh se arriverò ciao dovrebbe esserci due chilometri di discesina per rifiatare un po e poi ancora una rampa un'altra discesa e poi la rampa finale verso la cisa verso il passo rifiatiamo rifiatiamo diciamo che i 39 gradi non stanno aiutando per carità belle le discese però mannaggia ti fanno arrivare a 900 metri sul livello del mare per poi farti scendere a 700 e ripedalare fino ai 1041 del passo della cisa disonesti il problema delle discese è che sono sempre troppo brevi rispetto alle salite o meglio dura sempre troppo poco non fa in tempo neanche riprendere ad ogni modo mi mancano solo quindi solo 15 chilometri al passo della cisa e dopo sarà di nuovo discesa fino a pontreman il problema più grosso che in questo momento ci sono 41 gradi è tosta ma si va su impegno il fatto di essere arrivato all'ostello della cisa è un buon segnale vuol dire che sono quasi arrivato ma dovrebbero mancarmi 3 chilometri e sono sul passo della cisa spero ci sia qualcosa di aperto per mangiarmi un panino perché ho una fame da lupo e poi tanto è tutta discesa fino a pontremoli e anche oggi ce la siamo bovuta faticando per fortuna sta mollando un po' anche la temperatura e siamo scesi a 35 del 41 che c'erano prima game on ragazzi lo ammetto eh un po' ero scettico anch'io di riuscire ad arrivarci qua sulla cisa in bicicletta invece questo cartello qua attesta che io ce l'ho fatta come tanti altri ma la mia preparazione atletica è sicuramente scarsa e non adeguata a questi tipi di salite e invece ce l'ho fatta ben pianino con il mio passo sono salito sono contento ho mangiato appena adesso un panino più in i signori bresciani che ho conosciuto quella là sopra è la chiesa della cisa adesso magari ve la faccio vedere dalla scalinata ok ciao 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 posso dire vi aver portato a casa anche la tappa 3 o si scavalcando il passo della ciosa il mostro di tutti ciclo pellegrini adesso sono nel convento di padere cappuccini nella mia stanzetta singola aspects ammim olha oi ragazzi che hanno avuto problemi con bamici e poi con gli altri signori Bresciani e i ragazzi di Gallarate andiamo a scassarci di testaroli e torta d'erbe buona cena a tutti